wow ragazzi c'è allora uno sponsor qua che va lì cioccolato dal giappone ma hai visto prima che c'è una choco in japan perché è il suo franzo, non è il suo franzo, non è il suo franzo, il suo franzo è venuto in japan e questo è macadamia e stiamo guardando questa serie quale è il nome di questo? il furistivismo e l'olimetangere il filibusterismo e l'olimetangere di questo libro l'olimetangere quindi dopo aver guardato la serie devi mangiare un po' di cioccolare un po' di scando sì, un po' di Valian grazie a Valian perché siamo molto felici per questa serie abbiamo il macadamia cioccolata gano cioccolata e il lievelle almoni wow non conosciuto che in Japan è un po' di scendola questo è il loro scendola e le loro scendoli penso che possiamo comprare queste scendola qui so we try macadamia wow, molto bello perché dopo aver guardato la serie è molto grande da questo po' non ci sono bene 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 grazie adesso stanno prezziando adesso stiamo morevendo wow è乖 esatto è l'acqua è l'acqua Salmon... Macadamia... This is pure chocolate... Cacao... Meravigliau... So after you watch the series... Eat chocolate... So you feel again happy... So thank you so much... Now you feel better... I'm done... And Balin... Watch the playlist... Subscribe... Comment... And see you next video... Ciao ciao ciao...